Per esempio se facciamo un click su ogni singolo autobus, capire a che velocità sta andando quel mezzo, quante persone sono salite, quante persone scenderanno alla prossima fermata, riuscire a sapere se sono in anticipo o in orario, come in questo caso a 9 minuti di ritardo. Bari vista attraverso questo schermo a Marzocca di Senigallia è come un grande videogioco. Al posto dei Pac-Man però ci sono icone che sono autobus veri, in questo caso ritardatari. Vale per la Puglia, vale per la Lombardia, dove opera la marchigiana Pluservice, azienda leader nelle soluzioni digitali per la mobilità, circa 170 dipendenti, 9 milioni e mezzo di ricavi nel 2019, è un anticipo di futuro quello che si progetta. L'innovazione sarà avere un unico biglietto, devo andare dal punto A al punto B, acquisto un biglietto e poi il sistema che mi propone la miglior soluzione, mettendo insieme autobus, treni, metro, bike sharing, mobilità elettrica e quant'altro. Nel Mentre c'è la Sosta, dove già l'azienda opera con una delle piattaforme più note, MyCicero. Il passo in più, oggi Venezia, domani Senigallia, è che oltre a pagare con un click, si potranno per esempio conoscere i posti liberi in centro città senza girare a vuoto. L'automobilista che arriva, vedete, vede in che zona si trova e vede tutti questi pallini, verdi o neri. Verdi vuol dire che il posto è libero, quindi tu nelle stesse blu sei già dove andare a parcheggiare. Oggi la Pluservice, oltre 30 anni di esperienza, si amplia con l'ingresso di Sisal Pay 5, sistemi di pagamento di prossimità, con una quota di controllo del 30%. I timori che la D stoppa riguardano il futuro, resta Senigallia e l'occupazione. Questo timore non c'è, anzi ci stiamo proprio organizzando per rafforzare, stiamo cercando, selezionando personale. Noi oggi siamo quasi 170 persone, stiamo aumentando, stiamo facendo la ricerca del personale, sia a livello di tecnici, ma anche a livello di commerciali, consulenti. In prospettiva progetti europei e internazionali come Solutions Plus in nove città del mondo. Incentivare l'utilizzo del veicolo elettrico per ridurre le emissioni, quindi gli inquinanti, il traffico. Così le aspettative della dirigenza e dei lavoratori guardano alla dimensione internazionale. Speriamo di acquisire nuove parti di mercato all'estero, in modo da portare questi servizi che ormai sono multilingue, sono internazionali, anche con la nostra esperienza. Speriamo di acquisire nuove parti.